Giugno si è chiuso con pochissima pioggia, si abbassano i livelli dei corsi d'acqua e allora luglio comincia all'insegna delle limitazioni ai prelievi dal bacino idrografico del fiume Metauro. È quanto previsto da un'ordinanza della Regione Marche entrata in vigore oggi primo luglio e che resterà tale fino al 15 ottobre. Si tratta di una misura di salvaguarda del sistema d'approvvigionamento idropotabile della provincia di Pesaro Urbino con limitazioni che prevedono la sospensione di tutti i prelievi d'acqua pubblica dai corsi idrici nel tratto compreso tra l'invaso del furlo e la foce del Metauro come su alcuni tratti del Candigliano e dello stesso Metauro. C'è invece il limite del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione per quel che riguarda i corsi d'acqua presenti a Monte del Bacino del Furlo, ovvero Candigliano, Metauro, Burano, Biscubio, Bosso, Torrente Bevano, Certano e relativi affluenti. Le limitazioni non si applicheranno ai prelievi destinati all'uso idropotabile e alla beveraggio del bestiame. Violare la disposizione comporta una sanzione amministrativa fra i 3.000 e i 30.000 euro.